Musica Buonasera e ben ritrovati. Focus di questa puntata, ancora una volta il turismo. La domanda che la stazione oggi si pone è se Livigno è un brand affermato. Risponderà a questo quesito l'assessore al turismo di Livigno. Buonasera e benvenuta, Alessia Galli. Buonasera e grazie. Il presidente di APT Livigno, Luca Moretti. Buonasera. Benvenuto anche a lei. Stefania Cimino, buonasera e benvenuta. Consulente, signora dell'Institute of Brand Logic. Ho detto bene? Buonissima. Mi spiega innanzitutto chi siete? Noi siamo una realtà che si è ormai affermata nel mondo dello sviluppo dei brand di successo. Molto anche per quanto riguarda le destinazioni turistiche. Abbiamo seguito già da più di dieci anni in realtà come Surf House Vislavis. ma siamo anche presenti ultimamente a Lenzeraide, a Rosa, piuttosto che anche a destinazioni cittadine come la città di Innsbruck. Ischkel è stato uno dei nostri clienti nel passato, piuttosto che Lecchia. Livigno è la prima stazione italiana su cui indagate? Livigno sì, per l'Italia, se non consideriamo l'Alto Adige, perché in Alto Adige abbiamo fatto comunque già alcune realtà come il più piccole, come il Renonna. E io stessa ho partecipato l'anno scorso alla riforma di tutte le organizzazioni turistiche per quanto riguarda l'Alto Adige. La domanda che Livigno si è posta è, Livigno è un brand affermato? Ho detto bene? L'obiettivo di questo progetto che in accordo con Luca abbiamo deciso di portare avanti è quello di comprendere il brand Livigno come affermato, non solo a livello turistico, quindi inteso proprio come turista che viene nella nostra destinazione, che ci sceglie o che ci deve scegliere, ma anche e soprattutto a livello di operatori. Riputiamo fondamentale capire quanto gli operatori di Livigno, intesi in maniera assolutamente trasversale, quindi dall'albergatore al ristoratore, il negoziante, coloro che gestiscono le aree camper, le agenzie, tutti in maniera veramente, tutti coloro che hanno un contatto, un rapporto con il turista, come percepiscono il lavoro che è stato fatto, quanto sono allineati e vogliamo andare ad identificare punti di forza, punti di debolezza in maniera quasi scientifica, per avere una corretta sensazione di come stiamo lavorando e di quali potrebbero essere degli spunti da poter seguire. Credo sia fondamentale questo come messaggio perché appunto ci sarà un momento di coinvolgimento importante ed è un po' quello che l'obiettivo anche di questa sera è chiarire dove vogliamo arrivare con questo lavoro. Quindi è un'indagine sulla consapevolezza del sistema organizzativo e non sul percepito del turista, sul corporate. Esatto, un'indagine su quello che noi vogliamo che la gente, i nostri operatori dicano o trasmettono ai nostri ospiti e poi all'esterno della località. Ci sarà anche comunque un'indagine sul percepito dei nostri turisti in loco e forse non solo. Voglio tornare un pochino indietro. Nel 2012 quando l'amministrazione, che poi è rimasta l'attuale o comunque è cambiata di poco, avevamo deciso che APT avrebbe fatto quelle infrastrutture che a nostro modo di pensare e di vedere mancavano senza stare a soffermarci troppo su una strategia ben chiara ma iniziare con le infrastrutture, quindi con la materia prima, con il supporto di queste infrastrutture, il fondo, l'acqua grande su seguita dopo, tutte le attività che APT ha seguito e che anche con gli eventi ha portato avanti. A questo punto, avendo oggi le infrastrutture, con Alessia che è assessora alle strategie turistiche, quindi assessora al turismo, con una veste meno operativa, nel senso meno pratica, ma molto più di strategia, abbiamo deciso di ormai analizzare quello che ci manca per fare uno step ulteriore. Quindi le strutture ci sono, ne mancheranno probabilmente, ne dovranno essere migliorate delle altre, ma la base c'è per poter lavorare e essere degli strateghi per poter attirare più gente. Se così riusciamo ad attirare 1.300.000 per notti all'incirca, pensiamo che con una pianificazione migliore, con una governance meglio coordinata, governance intendo proprio la struttura APT e poi la struttura degli operatori, cioè la rete degli operatori, la filiera turistica che consegue dopo l'indirizzo di APT, siamo convinti che possiamo fare, attraverso questo primo step e poi altri a seguire, che poi spiegheremo, un miglior lavoro, quindi creare un migliore indotto. Vista la sua esperienza, quanto è importante misurare l'efficienza di un sistema organizzato? A livello di destinazione turistica abbiamo visto il fattore fondamentale che poi fa sì che la destinazione abbia successo nel tempo, quindi non sia soltanto una moda magari di un paio d'anni, ma che veramente riesca a creare un immaginario positivo in quelli che sono il potenziale pubblico e soprattutto gli ospiti che vengono, perché soltanto quando c'è effettivamente, nel momento in cui entro in contatto con la destinazione, una conferma di quelli che sono i messaggi, i valori che ho cercato di passare con la comunicazione, allora questo immaginario viene effettivamente valorizzato e portato poi anche ad altri. Passaparola nel turismo è fondamentale, soltanto se quello che viene percepito viene poi anche effettivamente portato avanti. Gli operatori però devono essere allineati? E questo è il punto, soltanto se gli operatori sono allineati, se si sta lavorando nella stessa direzione, se la visione per il futuro è chiara, è comune, quindi tutti della loro individualità riescono a valorizzare questi elementi che insieme si sono decisi, allora anche il turista effettivamente li percepisce e la destinazione riesce ad avere un profilo differenziante sul mercato che la distingua dagli altri, perché poi c'è sempre una concorrenza, soprattutto nell'arco alpino, molto forte. E soltanto in questo modo, se tutti insieme abbiamo chiaro cosa vogliamo dare di diverso a questi turisti, perché devono venire a Livigno piuttosto che andare in altre destinazioni. Ha citato destinazioni di successo come il surf house, ma ha citato anche l'Alto Adige, che conosce molto bene, destinazioni a cui queste indagini hanno dato le risposte che si attendevano, ovvero dove il sistema era coeso, era condiviso, era... Non sempre, cioè tramite questa invagine, quando appunto è emerso che questa coesione non esisteva, soprattutto che c'erano posizionamenti ancora troppo vaghi, dove non si capiva poi effettivamente che destinazione vogliamo essere, si faceva un po' di tutto e questo portava chiaramente anche ai turisti a non avere una chiara percezione del perché poi, di che cosa sei eccellente, in che cosa sei forte. Ed è in questi casi, ad esempio, surf house, che dopo un primo momento di rilevazione, come stiamo cercando di fare adesso, si è deciso, no, ok, allora dobbiamo insieme decidere dove vogliamo andare, che cosa vogliamo andare a proporre. Assessore, decidere insieme dove andare e che cosa essere, è qualche cosa che è già stato fatto, è qualcosa su cui si sta lavorando? Beh, durante, nell'anno in cui io ricopro questa carica, è stato fatto, diciamo, in maniera, non direi superficiale perché sarebbe scorretto, ma potrei dire più a sensazione, si cerca di tenere il dialogo aperto con gli operatori, di sondare il terreno, di comprendere queste dinamiche, però il tipo di lavoro che abbiamo scelto di fare ci permette di avere, come dicevo prima, una sensazione, una base, una prova più, non dico scientifica, ma quasi, perché si dà voce a tutti gli operatori, si ha modo di avere un report finale dove emergono chiaramente le opinioni di tutti in maniera trasversale, quindi per quanto si sia cercato sempre di ascoltare, sondare, capire, confrontarsi, non c'è mai stato un metodo che abbia permesso di avere una rilevazione così precisa, così, appunto, dicevo, quasi scientifica, che poi può dare il tipo di risultati che stiamo cercando. Ma chi deve dare queste linee guida, poi? Se l'indagine dovesse portare ad un risultato inatteso, rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi, che cosa potrebbe accadere? Sicuramente sarà la parte fondamentale, ma poi a livello operativo abbiamo appunto chiesto il supporto di Stefania e dell'Institute of Brand Logic, proprio per avere qualcuno che ci guidasse in un percorso. Non ci aspettiamo, vorrei proprio mettermi in gioco al 100%, non ci aspettiamo un risultato che ci dica bravissimi, perfetto, eccellente. Non è sicuramente questo, speriamo, chiaramente, abbiamo sempre operato in buona fede e cercando di portare il massimo dei risultati, però sarebbe forse troppo pretestuoso dire abbiamo fatto tutto bene. Dovessero emergere, sarà sicuramente uno stimolo a trovare delle risposte, a raddrizzare appunto l'andamento. Siamo disposti a metterci in gioco e a capire in che modo portare avanti al meglio la destinazione. È così, chiedo a Luca Moretti. È così, mettersi in gioco è un po' nelle dinamiche di questa nuova amministrazione e di APT ormai dagli anni. Mettersi in gioco significa uscire un pochino dello stato di comfort per trovare delle situazioni o cercare, scavare delle situazioni e capire che magari queste situazioni non sono quelle esattamente di comfort e quindi ci porta un po' fuori per migliorarci. Sicuro l'intento è quello di migliorarci, non è quello di fare un passo indietro assolutamente. Come diceva Alessia abbiamo sempre operato a sensazione, ma con una sensazione dettata dai nostri didati, dalle nostre percepito che avevamo con gli opinion leader della località. Quindi non mi aspetto un risultato che capovolga la linea tracciata in passato. Questo sarebbe troppo e sarebbe il risultato di un qualcosa di falso emerso con 1.300.000, quello che dicevo prima, di utenti che ci scelgono per notti, quindi utenti di 180.000. Ci aspettiamo invece di avere una linea più precisa di quello che potrebbe essere l'Active, il Family, il Bike o tutti quei prodotti che abbiamo indirizzato e sulla quale abbiamo puntato tanto. Quindi di avere anche una scelta migliore della gestione del portafoglio, quindi in termini economici dove è meglio puntare, dove è meglio indirizzare altre attività e dove è meglio investire per appunto, ormai le tasche non sono piene né quelle del Comune né quelle di APT, quindi riuscire a dirigere la nostra potenza di fuoco nel miglior punto, nel miglior target, penso sia un giusto lavoro da fare, ma soprattutto il mettersi in gioco per poter avere ancora maggior successo se mai c'è mancato e se mai l'abbiamo avuto. Da queste riflessioni quindi l'idea di seguire un percorso ben preciso, scientifico, diceva l'assessore Galli, per arrivare ad avere un quadro completo dell'opinione del Paese, degli operatori del Paese. In che modo? Quali saranno le modalità? Allora, per quanto riguarda gli operatori locali, abbiamo un questionario che verrà appunto erogato dall'APT e i dati raccolti poi verranno in modo anonimo, chiaramente elaborati e già daranno una visione su alcuni punti fondamentali che noi sappiamo essere i presupposti per i brand di successo. Quindi da una parte appunto la chiarezza di dove si voglia andare, la coesione, cioè il fatto che si stia andando in una stessa direzione, il dialogo a livello di destinazione tra gli operatori, il tema anche di quali sono i fattori fondamentali secondo gli operatori, che ci permettono adesso di attirare gli ospiti e che ci permetteranno in futuro di farlo, sia rispetto all'estate sia rispetto all'inverno. E questo chiaramente dà subito una chiave di lettura, c'è questa visione comune o non c'è. L'altro elemento fondamentale è la potenza espressiva dei punti di contatto, che sarà un lavoro che faremo soprattutto noi con BrandLogic, ma anche coinvolgendo alcune persone sicuramente, quelle che più sono attive nella gestione di questi punti di contatto per vedere se hanno quei caratteri di espressività del posizionamento che sono importanti poi nel momento in cui l'ospite li percepisce. Può farci un esempio? Sì, ad esempio rispetto a, posso fare, Acqua Granda, quindi andremo a vedere quali sono i valori che Acqua Granda sta trasmettendo, sono poi, verifichiamo, quei valori che si vogliono trasmettere, quindi sta andando a concretizzare, effettivamente a rafforzare l'immagine di Livigno nell'Active, piuttosto che ha quegli elementi di innovatività, di specialità che ci servono poi per differenziarci e per non dire, vabbè, abbiamo la solita piscina comunale o no, effettivamente qualcosa di più, ci sono quegli elementi che sono tra i vari punti di contatto poi coerenti tra di loro, o stiamo andando, diciamo, da una parte su un'atmosfera molto in contatto con la natura, quindi anche nel fatto della tranquillità, di poter percepire questa natura, o ci sono poi punti di contatto dove ho musica elevata, piuttosto che grosse aggregazioni, posso pensare a Nischkella, che chiaramente andrebbero in contrasto con questa immagine, quindi andare effettivamente a vedere questi criteri, e questo cerchiamo di farlo più noi. E l'ultima colonna all'interno di questa analisi è proprio la percezione che invece hanno gli ospiti, e lì si farà una... Quindi verrà fatta un'ulteriore indagine. Un'ulteriore indagine, stiamo ancora valutando le modalità come fare questa, ma sicuramente sugli ospiti, quindi chi ha già vissuto Livigno, in modo che sia più effettivamente e concretamente l'idea che è emersa nei vari paesi che sono quelli più diversi ai mercati. Parole chiave quindi chiarezza, dialogo, coesione e anche visione. È questo? Deve essere questo. Deve essere questo. Ho sempre detto che APT, l'amministrazione possono fare i salti mortali, ma se poi l'interlocutore finale con l'ospite, l'operatore, e non riesce a fare da passaggio di questa strategia o di quel che deve essere comunicato secondo anche i nostri criteri, finisce un po' tutto lo scopo, rimane, ce lo diciamo tra di noi e si ferma. Questo anche perché ci siamo resi conto, questo lavoro viene fatto anche perché ci siamo resi conto che il passaggio tra noi e l'ospite o dovevamo scavalcare l'operatore, quindi i monitor sono stati uno delle prime attività, altre attività per comunicare loro quello che noi pensiamo Livigno debba essere. Uno perché l'operatore è in difficoltà, soprattutto d'estate, meno personale, meno tempo per poter dedicare al cliente, meno tempo per poter dedicare all'ospite, meno tempo per potergli spiegare. Quindi avevamo fatto un salto, avevamo tentato di scavalcare l'operatore sbagliando, ora tornando verso l'operatore, però ci rendiamo conto che questa comunicazione ha un punto di rottura. Non tutti. E' mancata la trasparenza o è un fattore invece più... Ma secondo me non manca trasparenza, a volte manca un po' di chiarezza anche da parte nostra, e quindi alcuni operatori, quelli forse meno attenti alle dinamiche che l'azienda di promozione e sviluppo vorrebbe lanciare, oppure che eroga, loro sono meno attenti e lo ricevono dopo, quindi l'ospite non può... Quindi ecco, questa è una miglior coesione per tutti dire la stessa cosa, per tutti raccontare la stessa cosa. A quel punto si rafforza molto di più la comunicazione. Se lo dice solo uno, lo dicono in cento, cambia. Questo per essere chiari non vuol dire che dovremmo tutti dire natura, family, attivo. Diremo quello che è il percepito con questo brand cieco, con questo analisi di posizionamento di dove siamo arrivati ad oggi, quindi lo status quo ad oggi. Cosa è l'ivigno oggi? A quel punto poi interverremo se ci saranno le dovute, i dovuti correttivi, femmini, active, piuttosto che turismo religioso, che non mi aspetto, ma potrebbe uscire... Visto il numero delle chiese... Abbiamo una località in Valtellina che vive di questo e lavora su questo, quindi è uno di questi trend e attività del momento. Quindi vediamo a che punto siamo. A quel punto inizia un percorso diverso diverso che a seguito di... per poter far sì che tutti vadano quantomeno nella stessa direzione e nella stessa espressione nel dialogo. Poi che uno se lo senta o se lo senta un po' meno questo sarà da vedere. Diciamo che con le attività fatte un buon indirizzo è stato dato. Questa è la mia visione. Vedremo dopo il brand check se sarà così. Volevo aggiungere una nota che abbiamo evidenziato in una prima fase di discussione con Stefania relativamente alla parte di questionario da sottomettere agli operatori. Abbiamo chiesto che ci fosse anche una differenziazione nella risposta. Chiaramente rimarrà anonima, però gli operatori avranno modo di identificare anche dove sono dislocati. In questo modo riusciremo ad avere anche un'analisi trasversale di come un'attività situata in un determinato punto di Livigno abbia una percezione sua dei suoi valori aggiunti perché poi emergeranno anche quali sono i valori che la località offre al cliente e che una determinata struttura rileva essere fondamentale per il suo ospite e quindi avere anche un'idea in maniera un po' più trasversale di quelli che sono i valori che può mettere in gioco la destinazione. Quindi sicuramente sarà interessante capire anche all'interno della destinazione cosa viene percepito e come viene percepito e come viene poi anche valorizzato per tutti gli operatori. Come verrà somministrato il questionario? Il questionario verrà somministrato online. Lo daremo a tutti gli operatori, non solo dal ricettivo e del commerciale, anche ai ristoratori, agli artigiani, comunque a tutte le persone, e a tutte le società che sono iscritte nel role del Comune di Livigno. Quindi tutti quelli che hanno una licenza riusciremo a raggiungere la loro email, tante ne abbiamo, quelle che non abbiamo le recupereremo e a loro verrà inviato tutto. Dopodiché ci sarà un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che coinvolgerà degli imprenditori locali di Livigno, cioè degli imprenditori locali che non sono solo del commercio, del turismo, ma saranno anche degli artigiani, dei professionisti, intendo geometri, piuttosto che altre persone che abbiamo identificato come non portatori di lavori, di valori che già sono magari interessi a loro, che già sanno di poter trasmettere, ma l'abbiamo fatto anche con, ragionando su quello che possono dare a località, essendo magari degli opposti di questo nostro percorso. Quindi non solo chi sappiamo già essere allineato, ma anche chi sappiamo non è allineato e può dare il suo contributo. Quindi a 360 gradi ci si mette in gioco. Tutti nel gruppo di lavoro potranno dire la loro e da quel punto potranno emergere i punti a favore, i punti a sfavore di certe scelte o di altre. Quindi la visione anche di tutti i professionisti. Di tutti i professionisti. I ristoratori saranno coinvolti, cioè tutto, tutto, tutto Livigno. È chiaro che non possiamo coinvolgere 6.500 persone. Avremo un gruppo di una ventina, 25 persone che lavorerà. APT farà solo la parte di lavoro nel contatto, nell'organizzazione, ma saremo guidati da Institute of Brand Logic per il metodo. Sì, questo nella valutazione dei punti di contatto che era la seconda parte. Lì lavoriamo con questo gruppo in modo che si crei anche questa consapevolezza, che si capisca che ci sia anche un transfert di know-how, come faccio, in modo che domani so già nella realizzazione. È un tavolo a cui parteciperanno anche gli esperti di comunicazione, chi poi farà comunicazione? Abbiamo chiesto sicuramente chi se ne occupa all'interno dell'APT. Adesso non so se poi sarà il caso di esterni. Ci sarà anche la parte politica, ci deve essere, perché da una scelta, prendo esempio, lo rubo da te Stefania, Serfaus. Serfaus quando hanno fatto tutto il percorso, dove erano in quel momento, cosa facciamo, come lo facciamo, è normale, a me viene da ridere, sentire in alcune occasioni qui, quando si parlava di Bormio Marketing, la parte politica deve rimanerne fuori, eccetera. E poi le scelte chi le fa? Cioè sul piano regolatore, il piano di governo del territorio, sulla chiusura delle strade, adesso il put, o come si chiamano, chi è che le fa? Le deve fare la politica. Se la politica è allineata alla strategia di località, è più facile fare le scelte. Quindi prima si fa un'indagine sul percepito e poi si faranno delle azioni di marketing territoriali, immagino, per andare a mirare laddove non... Per questo chi deve fare la comunicazione, perché se la comunicazione non è efficace, chiaramente... Stato del malato, se è il malato. In base a quello che emergerà dalla diagnosi si deciderà che cosa serve. La cura. Diamo le pastiglie. Perché magari a livello di comunicazione spesso emerge questo, che la comunicazione è buona e funziona, però poi effettivamente quello che nella destinazione è percepibile, cioè quella che è la prestazione, è il messaggio sbagliato. non concide, no? E quindi devo decidere e fare qualcosa di più per riuscire veramente a arrivare a quei livelli di eccellenza nelle USP che ho definito a livello di posizionamento, perché non deve essere tutto perfetto, però se dico di essere il... anche sulla competenza di chi è a contatto con i bambini, sia a livello di hotel, sia a livello di scuola di sci, sia a livello di impianti, quindi si è stato tutti, per esempio, faccio questo esempio perché è molto chiaro, tutti i maestri di sci hanno avuto una formazione pedagogica, quindi come accolgo questi bambini, come li aiuto, tutti gli hotel hanno delle strutture che sono a misura di bambino. Si sono allineati tutti? Si sono allineati tutti e Surfers è diventato veramente il... Modello. Il luogo dove è veramente un enorme parco giochi per i bambini che sia d'estate o che sia d'inverno. Ma è una scelta e ha premiato perché noi abbiamo visto negli anni che effettivamente se sommiamo il valore aggiunto di tutti gli operatori, quindi non soltanto a livello di pernottamenti o di arrivi, ma veramente di quello che è rimasto come guadagno ad ogni operatore è la destinazione a livello austriaco che è cresciuta in modalità esponenziale. agli altri. Questo significa che però bisogna prendere un indirizzo e quindi focalizzarsi su quello. Non si può essere un po' di tutto. O se è family o se è active o se è sport. si vedrà cosa ne esce. Anche Whistler a differenza di Surf House ha fatto una scelta. Questa scelta però non ha bloccato le famiglie. Quindi cioè la scelta di una Whistler che conosco abbastanza bene essere active quasi estrema rispetto a quello che è Livigno oggi comunque le famiglie non la disdegnano per quindi infatti sul target group loro hanno diventato family ma poi offrono anche altro poi offrono no non offrono altro perché vogliono hanno fatto quella scelta loro volevano le famiglie su quello si sono concentrati ma la scelta non deve essere su un target group può essere su un tema una tematica quindi appunto se può essere active se può essere più sport estremo Ischgl è andata su relax if you can cioè non ce la fai neanche a riposarti perché c'è troppo da vedere da fare da vivere ed è aperto a tutti i target group anche a Livigno non ce la fai a riposarti direi direi che con quello che è stato messo in piedi ci si può riposare non rubiamo lo slogan di Ischgl ma no continuiamo su no io sono veramente tranquillo e curioso curioso perché innanzitutto non saremo noi a dirlo ma saranno gli operatori e i turisti è molto importante seconda cosa abbiamo scelto e la ringrazio per innanzitutto per partecipare a questo concorso che abbiamo indetto due mesi fa due mesi e mezzo fa dove c'erano degli altri competitor rispetto a Institute of Brand Logic c'erano anche altri competitor e loro si sono aggiudicati questo concorso quindi non saremo noi a dire e a gestire il metodo ma lo dico con un pochino di rammarico perché a volte quando viene fatto da PTI può essere subito messo in discussione comunque in dubbio sulla direzione perché Luca potrebbe aver detto questo ma in realtà invece questo è pura metodo pura analisi logica è un metodo testato ormai da anni che abbiamo visto effettivamente porta i suoi frutti l'hanno visto i nostri clienti facciamo anche in continuazione anche noi le nostre analisi di soddisfazione dove chiediamo che cosa vi ha portato e soprattutto quello che ci piace essere la nostra la nostra ritorno il fatto che tutti dicono avete non soltanto dato una visione chiara avete aiutato ci avete aiutato a trovarla perché non siamo noi che la diamo per l'amor del cielo per questo questo enorme coinvolgimento ci avete aiutato a trovare questa visione e avete portato l'energia poi per anche realizzarla infatti è enorme questa la percentuale di realizzazione che poi vediamo mentre a volte molto spesso purtroppo si rimane a livello di un bel disegno sulla carta che rimane sulla carta se non è un po' peggio nel cassetto sarebbe peggio ma qui siamo partiti già dal termine active per cui non credo che sia questo il problema infatti è una delle domande è una delle domande però sì sì chiediamo proprio agli operatori quanto loro abbiano veramente l'impressione che poi quando ci si mette in testa qualcosa si viene anche realizzata deve essere realizzata abbiamo detto un'indagine che verrà sottoposta a tutti modalità online questo per una ragione ben precisa poteva anche essere fatto porta a porta face to face sì abbiamo visto online nel passato l'abbiamo fatto porta a porta adesso oppure abbiamo puntato magari su interviste individuali cosa che comunque in parte facciamo anche la volontà in questo quando ci si trova in queste situazioni appunto anche vederla invece con una anche a livello quantitativo e non soltanto qualitativo proprio per per recepire il più possibile qual è il mood nella nella destinazione avete un numero particolare di risposte dagli operatori di ligno sapete quanti sono e più abbiamo dati più sapremo che la tendenza è vicina alla realtà quindi quanti quesiti quanti formulari invierete all'incirca tutti quelli che sono iscritti negli albi negli albi nel diciamo nel role del comune di Livigno come società almeno un migliaio quindi saranno almeno 3.000 e da chi verranno gestiti questi questionari noi noi riceveremo i dati per questo l'online naturalmente permette anche una maggior velocità nell'analisi nell'analisi perché non c'è più nessun non c'è bisogno che qualcuno si metta a calcolare ma si spera che arrivino già in sottoforma di un file ex noi di solito appunto usiamo strumenti di questo tipo in questo caso abbiamo lasciato visto che l'APT ha i suoi canali è anche giusto che utilizzi quelli che sono normali in modo che le persone siano anche più facilitati nel rispondere però poi una volta ottenuti questi dati abbiamo noi la possibilità appunto rispetto ai vari criteri che stiamo andando a verificare la possibilità di vedere quanto vengano rispettati quanto vengano effettivamente le tempistiche noi la vorremmo fare bella stretta perché abbiamo come esperienza abbiamo visto che l'energia rimane bella alta se si riesce veramente a rispondere in tempi brevi detto fatto quindi la tempistica è anche a fine della stagione quindi siamo con gli operatori più liberi quindi meno indaffarati ma comunque ancora operativi stanno preparando l'inverno sicuramente stanno ormai ultimando l'estate quindi è il momento che non ci scappano quindi non è un caso il fatto che arriviate ora no non è un caso ci tengo a dire che è il momento veramente questo per scrivere riportare e aiutarci a meglio indirizzare la nostra località meglio indirizzare la nostra destinazione un questionario molto veloce per cui tutti potranno sedersi a tavolino e rispondere in modalità istintiva o ragionata? ma ci sono delle domande credo che devono anche rispondere un po' non dico all'istinto ma va bene ragionarle però se uno deve dire la sua sensazione la sua percezione quindi ci sono alcune risposte che necessariamente probabilmente ci saranno delle risposte distinte inutili pensare se effettivamente c'è coesione uno o la sente o si sente parte di un gruppo o vede un determinato punto di vista o anche ragionare e pensarlo probabilmente non è così istintiva ma è ragionata però senza bisogna proprio dire quello che si pensa per questo vorrei aggiungere che è fondamentale che chi risponde al questionario siano i proprietari delle attività quindi che non venga delegato o è un questionario ma si fa lo tu che sei il reception cerchiamo appunto di coinvolgere gli operatori sono scelte dico almeno medio termine medio lungo termine quindi influiscono direttamente su tutti gli operatori pertanto i responsabili i proprietari i gestori devono essere loro coinvolti direttamente porterà via credo dieci minuti al massimo quindi dieci minuti assolutamente ben investiti perciò ecco l'invito che vorremmo fare è quello di prendersi questi dieci minuti nei prossimi giorni compilare questo questionario portando anche in luce quelli che sono i propri pensieri è il momento per gli operatori di tirar fuori i loro punti di vista sulla gestione non sulla gestione del turismo ma su quello che effettivamente loro riconoscono essere i nostri punti di valore come destinazione perciò è giusto che poi l'impegno di amministrazione di APT sia lavorare su queste indicazioni insieme a Stefania e quindi all'Institute of Brand Logic abbiamo detto all'inizio un'indagine di Brand Check per cui poi verrà fatto un'analisi approfondita anche sul percepito dei turisti quindi verrà fatto un'indagine per scoprire se quello che loro si aspettano è quello che poi scoprono una volta arrivati nella stazione così? Sì questa è proprio l'intenzione non l'abbiamo abbiamo atteso con l'impostazione del questionario che faremo noi sulla base anche dei risultati di questo prima rilevazione perché chiaramente vogliamo avere la possibilità anche di andare a verificare se quello che si vuole esprimere poi viene anche percepito quindi non sarà un questionario standard ma sarà veramente il questionario per i turisti di Livigno dove andiamo con domande a chiarire effettivamente quanto emerge di un aspetto piuttosto che dell'altro quanto viene percepito Sui turisti già in paese sui turisti invece potenziali su quali turisti fatto in Livigno o fuori Livigno? Anche questo verrà in una modalità online avevamo scoperto che Livigno ha a disposizione diversi nominativi proprio di turisti che sono già stati in loco quindi abbiamo scelto di utilizzare queste banche dati perché siamo sicuri anche di effettivamente riuscire ad approcciare persone che conoscono Livigno che sono stati a contatto con Livigno chi è già qui ha già una percezione quindi è già influenzato è importante che ci dicano cosa pensano del brand quelli che non sono Livigno ma che lo sono stati magari nel passato è anche importante quindi questo era l'idea c'è la possibilità che è stata valutata che facciamo anche con altre destinazioni di andare su su panels internazionali dove si chiede effettivamente è conosciuto Livigno che percezione si abbia eccetera però nel caso di un brand check è meno abbiamo visto essere meno rilevante perché la quantità che si riesce poi a raggiungere è talmente minima e si riesce più che altro a valutare poi è conosciuto non è conosciuto è nei top of mind piuttosto che ha una percezione positiva o meno ma per riuscire poi veramente a capire se il posizionamento che si vuole dare viene percepito tale dall'ospite si può fare soltanto con quelli che sono stati qua e quindi con una banca dati di ospiti turisti che sono stati riconosciuti andremo veramente questa era la volontà andare su le varie nazionalità lo farete su entrambe le stagioni sia d'estate che d'inverno iniziamo con l'estate anche questo abbiamo pensato iniziamo con con l'estate per quanto riguarda i turisti anche l'inverno perché chiaramente è una banca dati che prende sia l'uno che l'altro ci sarà appunto queste domande all'inizio che cercano di capire che cosa sai che cosa hai quando sei stato arrivino sei stato in estate sei stato inverno di conseguenza indirizzare il resto del questionario con gli operatori anche si chiederà sia l'uno che l'altro nell'analisi dei punti di contatto purtroppo per riuscire ad avere già dei risultati a breve valuteremo adesso quegli estivi e ci siamo però riproposti di verificare se anche sulla base dei risultati che tornano sia il caso di andare anche a fare una verifica su quelli invernali abbiamo parlato di target e di temi il tema lo abbiamo compreso tutti credo Alivigno ma è la stessa cosa sia per la stagione invernale che per la stagione estiva chiedo Amoretti no non è la stessa cosa per questo che il questionario che verrà fatto e tutte le attività che verranno fatte terranno presente di una stagione e dell'altra quindi sappiamo avere mercati diversi in estate rispetto all'inverno sappiamo avere anche impegni diversi rispetto a delle due stagioni quindi il lavoro tiene conto di tutto quindi con l'esperienza della società e con l'esperienza avuta poi anche dagli operatori eccetera riusciremo a capire qual è il target qual è individuare qual è il tema il target sia d'estate che d'inverno Assessore abbiamo visto indagini quindi a tutto tondo questionari e interviste anche qualche workshop ci sarà un workshop a termine delle due fasi di somministrazione di questionari perché sarà fondamentale poi la condivisione di questi risultati chiaramente possiamo trovarci in tre possiamo trovarci in dieci possiamo trovarci in venti chiaramente non possiamo trovarci come diceva Luca in 6.500 per fare dei punti dei resoconti finali sicuramente cercheremo di coinvolgere più persone che è un po' quello che diceva Luca prima a tutto tondo per poter condividere questi risultati e far sì che vengano coinvolti gli operatori in maniera trasversale sia che operino direttamente sulla filiera turistica sia che la vivano la tocchino in maniera anche indiretta però anche loro devono essere coinvolti su quelle che verranno date come linee guida da seguire le conclusioni quindi le conclusioni spero che soddisfino poi le aspettative cercare veramente di avere una fotografia di come Livigno viene percepito dagli ospiti e soprattutto una fotografia di come gli operatori si stanno stanno lavorando per portare Livigno al successo e poi di conseguenza vedere questo vogliamo darlo anche come come valore aggiunto alla fine cioè non dare soltanto una fotografia ma anche aiutare la PT il comune a identificare beh e adesso cioè quali saranno i prossimi passi che cosa facciamo in base a questi risultati possiamo adagiarci sulle allori o piuttosto che no agire agire conosceva già Livigno? no per fortuna e così io lo apprezzo al massimo quindi non aveva un immaginario che si ha perché insomma è sempre una aveva un immaginario di che tipo? era l'immaginario del punto di shopping anche proprio per per brand anche di un di un certo livello e soprattutto il fatto appunto di questa isola italiana in territorio in territorio svizzero però appunto nient'altro questo era il mio immaginario quindi quando sono stata qua per la prima volta mi si è aperto un mondo è stata una sorpresa oppure? un'enorme sorpresa un enorme sorpresa quindi c'è ancora tanto da fare assolutamente ma non avevamo dubbi è proprio per questo che stiamo facendo questo tipo di lavoro non avevamo dubbi vuole aggiungere qualcosa? no solo lei ha un minuto di tempo per convincere gli operatori i professionisti a rispondere al questionario no esatto volevo proprio aggiungere questo è importante ora dare una mano alla propria località questo è il momento per poter esprimersi in modalità anche anonima tanti vengono al mio ufficio lo fanno direttamente tanti vanno ad Alessia questo invece è il momento per poterlo fare per iscritto in maniera anonima e dare veramente una mano quindi le scelte che poi verranno fatte o i risultati dipenderanno anche da loro e grazie a loro condivideremo il tutto useremo la televisione quindi mi accapparro già delle serate a Tele Monteneve per riuscire a trasmettere a tutta la popolazione i risultati il tema è stimolante ringrazio il presidente di APT Luca Moretti grazie a voi buona serata la dottoressa Cimino grazie a Cimino e la dottoressa Galli grazie buona serata ovviamente ringrazio anche voi da casa che ci avete seguito arrivederci grazie a tutti